Dopo la giornata di ieri in cui per la prima volta, dopo quasi tre mesi, si è arrivati a quota zero nuovi contagi registrati in regione Campania, buone notizie anche per il Cilento e la città di Agropoli. Infatti sono state registrate nuove guarigioni che fanno scendere i positivi al coronavirus in città a uno. Si tratta di uno dei componenti della famiglia Petrizzo, il figlio dei coniugi, che dopo sei tamponi è risultato finalmente negativo. L'Asla, confermata la guarigione del ragazzo, ha predisposto per lui anche le dimissioni dal periodo di quarantena che durava da tempo. Tutti i componenti della famiglia sono ormai guariti dal covid-19. Per i restanti guariti si tratta della compagna dell'uomo di Cava dei Tirreni, che risultò positiva lo scorso 15 aprile, e un altro cittadino guarito dal covid. L'unica persona positiva al coronavirus restante in città è l'uomo proveniente da Cava dei Tirreni. Nel Cilento resta un altro caso, oltre al singolo positivo di Agropoli, infermiera napoletana del San Luca residente a Casalvelino. Per il ballo di Diano invece i casi attivi sono arrivati a zero, su 154 registrati con 16 decessi.